Se non ci fosse la legge, noi non potremmo sapere, sappiamo i nostri diritti, o se dobbiamo accettere. Discepterò solo, da solo presenterò. Scusate, mi sono lasciato prendere di nuovo dalla solitudine. Buongiorno a tutti, benvenuti a Ho ragione avvocato dagli schermi di Videonovara e da tutte le altre emittenti collegate di Odeon TV. Dunque, anche oggi l'imprevisto ha colpito impietosamente l'influenza mia privato del collega Gian Mario Bastetti, che peraltro vi manda i suoi raffreddati saluti e si scusa per non essere presente, ma affida a me quella che era la puntata di oggi che sarebbe stata dedicata appunto ai brocardi, noti detti latini, che sono delle perle di saggezza e che a volte sono ancora, diciamo, attuali e vigenti nel nostro diritto, a volte invece rappresentano degli statements, delle affermazioni che potevano essere utili e valide all'epoca del diritto latino o del diritto medievale. Quindi sostituisco, mi prendo anche la dose di brocardi del collega Bastetti e ve li presento ad uno ad uno, proprio perché più di una volta, insomma, ci sono stati richiesti questi brocardi, questi proverbi, come dico, è sicuramente inesatto, però, insomma, hanno un po' il sapore a volte carezzevole e a volte invece piuttosto educativo, anche magari un po' violento, di quelle che sono poi le favole o le cose che vengono tramandate oralmente e ci sono anche nel diritto. Ecco, non esiste soltanto il discorso delle favole per bambini, delle storie per adulti, esistono anche i brocardi per il diritto. Eccone qua uno che dice semplicemente così. Legis virtus ec est. Imperare, vetare, permettere, punire. Questo è un famoso, famoso perché studiava latino all'epoca anche per me, famoso passo del giureconsulto modestino, che indica con chiarezza la tradizionale distinzione delle norme giuridiche in norme precettive, cioè che dicono che bisogna fare qualche cosa, delle norme proibitive, cioè che proibiscono di fare qualche cosa, delle norme permissive, cioè che permettono di fare qualche cosa. Lo ritengono lecito. E infine coercitive, munite, cioè di un possibile ricorso all'uso della forza. Faccio una piccolissima digressione qui perché in altri passi delle nostre trasmissioni, uso il termine passi proprio per adeguarmi al discorso del brocardi latini, letterari in un certo senso, ecco abbiamo già detto che comunque il diritto spesso e volentieri si sostanzia nell'uso della forza. Questo non lo diciamo soltanto noi ma è stato affermato da autorevoli giuristi e soprattutto giuristi sociologi come negli anni 20 e 30 dai giuristi scandinavi Karl Olive Crona per esempio e Alf Ross che ancora si studiano a filosofia del diritto e i cui libri si trovano nelle biblioteche più o meno tradotti perché a volte bisogna proprio leggerseli in lingua originale. Per esempio perché l'uso della forza? Basti pensare al momento ad esempio in cui si debba mettere in pratica uno sfratto se purtroppo questa è una realtà molto comune oggigiorno e si va sempre più intensificando, se si deve mettere in atto uno sfratto che è stato sanzionato, sancito da un provvedimento del giudice, quindi da un provvedimento di diritto, in certi casi, voi lo sapete, è necessario l'uso della forza pubblica perché spontaneamente la persona sfrattanda non ritiene di abbandonare l'immobile. Altro caso ovviamente sempre ancora più eclatante è il discorso della punizione in sede penale. Vuoi nel momento dell'arresto? Vuoi nel momento della carcerazione preventiva? Vuoi nel momento della carcerazione definitiva quando si sconta una sentenza di condanna. È evidente che difficilmente il condannato sconterebbe spontaneamente una sentenza o rimarrebbe spontaneamente agli arresti domiciliari o alla custodia cautelare in carcere se non ci fosse l'uso ovviamente della forza. Ma questo è una conseguenza naturale nel senso che le norme possono essere rispettate con propria volontà ma nel momento in cui si ritiene che vengano violate e qualche giudice ritiene che ci siano delle violazioni quindi vengono presentate al giudice delle richieste e il giudice le sanziona logicamente se la controparte non adempi in modo spontaneo ecco che è necessario ovviamente l'uso della forza intesa in un senso magari non così violento come ce l'immaginiamo sempre ma comunque pur sempre di una coercizione. D'altro canto nelle puntate che voi vedete a forum o in altre trasmissioni giuridiche ecco quando voi pur pensate che Tizio è stato condannato a pagare a Caio 100 beh se paga questa somma fuori di trasmissione o durante la trasmissione va bene ma se ciò non avviene abbiamo già detto più di una volta che sarà necessario ricorrere all'uso degli strumenti giudiziari veri e propri quindi quello che era un'illusione di applicazione del diritto diventa poi sostanzialmente un siparietto televisivo poi ottimamente molti dei casi lo sapete vengono anche costruiti ad hoc per poi comunque arrivare a delle pronunce che sono sempre sicuramente anche piuttosto interessanti ma che abbiano poi bisogno eventualmente di un'esecuzione al di fuori degli schermi e al di fuori delle riprese televisive. Beh qui siamo trasmigrati dal tempo latino al tempo presente, fin troppo. Vediamo un altro broccardo, passiamo a quello che dice e questo è abbastanza interessante perché non l'abbiamo mai utilizzato, non l'abbiamo mai letto nelle nostre trasmissioni malizia, supplet etatem la malizia supplicce all'età cioè costituisce un'eccezione posta alla regola dell'articolo 1425 del codice civile secondo la quale il negozio giuridico, per esempio un contratto compiuto da un soggetto legalmente incapace come un minore, un interdetto, un inabilitato è annullabile per il solo fatto della esistenza di un'incapacità e quindi questo vuol dire anche se manchi in causa la dimostrazione di un danno subito con la conclusione di questo negozio giuridico, di questo contratto e anche se l'altro contraente non conosceva la causa della incapacità per esempio appunto la minore età o la eventuale interdizione della persona però a questa regola fa eccezione il principio espresso poco più sotto nella formuletta che adesso esaminiamo e che ha ispirato appunto l'articolo 1426 del codice civile il negozio giuridico, il contratto diciamo così non può essere annullato qualora sia stato concluso con un minore che mediante artifici o raggiri e non con una semplice bugia artifici e raggiri che sono tipici degli elementi costitutivi del reato di truffa abbia ingannato la controparte sulla sua vera età ed è logico se un minore è così scaltro da voler concludere un contratto ingannando con artificio e raggiri un'altra persona sulla sua vera età è evidente che il principio della tutela del minore si annulla il contratto semplicemente perché tu maggiorenne hai contrattato con una persona di minore età non vale più sarebbe un eccessivo e ingiusto favorittismo nei confronti del minore scafato poi di questo naturalmente oggi come oggi ecco si è un po' perso il gusto di questi problemi nelle situazioni civilistiche sono transmigrati ahimè questi problemi nei discorsi penalistici che riguardano gli articoli 600 e seguenti quando si parla di violenza sessuale di atti sessuali nei confronti di minori infra quattordicenni o post quattordicenni ma il tema qui ci porterebbe molto lontano e solo per dirvi come sentiremmo oggi la necessità di leggere dei brocardi che ahimè non sono ancora stati creati e probabilmente si saranno creati non saranno creati in lingua latina ma saranno creati in un italiano probabilmente con quel tipo di gergo con quel tipo di slang anche piuttosto come dire vivace che fa mettere spesso quegli inutili bip alle trasmissioni di striscia la notizia e altre trasmissioni similari penso che ci siamo intesi credo che l'ultimo brocardo per oggi possa essere questo ne avevo trovato uno che in questo momento mi sfugge ma no, ma no, l'ho ritrovato Avvocato Bastetti se lei ci fosse qui a mettermi il dito indicandomi laddove io mi perdo il cammino come faceva Virgilio con un letterato di cui adesso mi sfugge il nome ecco io certamente non sentirei così tanto la sua mancanza comunque sono sicuro che per la prossima volta i germi avranno lasciato spazio alla migliore delle guarigioni torni tra noi e quindi l'ultimo brocardo è malum passionis propter malum actionis letteralmente il male della sofferenza per il male della azione si usa per indicare le finalità cui tendevano una volta le sanzioni e consisteva nell'infliggere una sofferenza un male sensibile uno scapaccione a chi avesse trasgredito a certi precetti giuridici questa finalità si soleva appunto connettere all'idea della espiazione o del riscatto per cui si diceva che il male causato con la trasgressione della norma doveva essere espiato con il male provocato da una pena chiediamolo per esempio ma non solo alla santa inquisizione questa finalità è estranea all'attuale ordinamento giuridico per il quale le pene lungi dall'avere una funzione afflittiva devono invece tendere alla rieducazione del condannato e di quest'ultima frase non do commento alcuno limitandomi a rilevare che questo libro di cui magari ci auguriamo presto un aggiornamento è di Franco Ferrarotti ed è dell'edizione Ipsoa copyright 1993 probabilmente allora le pene avevano quella funzione rieducativa del condannato di cui oggi tanto ancora si discute e che pare non sempre possano o riescano ad avere vi ringrazio per l'attenzione da Gian Mario Bastetti virtualmente presente vi saluta con un piccolo colpo di tosse e da Antonio Costa Barbè un appuntamento alla prossima puntata questa volta con il DDL dinamico duo legale riunito dagli schermi di Videonovara e Ho ragione avvocato grazie a tutti buona giornata grazie a tutti